Ciao a tutti, bentornati sull'antimeta, siamo il Loren e oggi dopo tutti i mazzi Commander abbiamo il secondo box di Commander Master. Vi ricordo che è ancora disponibile sul Fantasia Store a prezzi purtroppo alti perché dopo la prevendita i prezzi si sono alzati, ma per questi altri prodotti, anche quelli che dovranno uscire, vi consigliamo di passare a dare un'occhiata o dal vostro negozio di fiducia o se non ce l'avete appunto sul Fantasia Store dove potete usare anche il codice ANT5 per supportare il canale e avere un piccolo sconto. Lasciate anche un bel mi piace a Che Robbe che ne ha bisogno, se siete qua siete proprio dei veri fan del canale perché solitamente Che Robbe sbusta peggio il secondo box rispetto al primo, cioè il primo è sempre quello della gloria, qua invece quello della miseria, questo è il box della passione, capito? Che Robbe parte subito, l'altra volta ci ha iniziato con un inizio sprint, un percorso noioso e un finale abbastanza interessante. Reliquary Tower, si, dobbiamo diventare un po' a fuoco, meglio, ok, tre isole, quattro cioè cinque, tutto, c'è il pacchetto con tutte le terre, ok, e questo è il pacchetto da Sealed, Sì, Zada, Experiment, Kragi, questo è un comandante combo molesto, ha tutte le creature che controlla quel giocatore. Buono, prima mitica. Poi c'è un altro, che Robbe parte subito, parte subito molesto. Sono un po' scomodo, vieni più in qua. Eh sì, vengo più in lì perché, ola così, non mi spacco il gomito. Sistemati. Belfer dragon, mica male. Quando ogni volta fa danno a un giocatore, fa tanti danni a tutte le creature che controlla quel giocatore. Buono, prima mitica. Buono. Poi c'è un altro lotto dorato. E all that glitters. Poi c'è la tua, la bomba del Pauper. La bomba Pauper Full Hard Foil. La mettiamo da parte che è questa. Che robe, come vedete, che robe parte subito con Pauper Master. Pauper Master, il tuo Pauper Master. Se ci fosse un'espansione chiamata Pauper Master, la sbusteresti lo stesso. E troveresti le mitiche. Ah, può essere. Schinieri, buono. Rorix. Daemon Belzenlock. Costa 6, un 6,6. Volare, travolgere. Quando entri nel campo di battaglia, esili la carta e ci metti il tuo rumore finché non esili una carta non terra. Puoi metterla in mano. Se il costo di mani con la carta è 4 superiori, ripeti il processo. Ti fa un danno per ogni carta aggiunta a mano. Ok, quindi si ripete finché non prendi qualcosa che costa meno di 4. Carino, niente desiderato. Arachnogenesis, Krayhix, Spider 1, 2. Dove X, il numero di creature che ti stanno attaccando. Prima di utilizzare una combat che avrebbe benefit in questo turno dalle creature non ragno. Ok. The Great Engine. Due boost e due mitiche. Eh sì, questa qua è carina. Questa qui è carina, è una delle bombe dell'espansione. Eh, lo so che è una delle bombe dell'espansione. Infatti è carina. Questo qui è da parolacce, che roba sei da parolacce. Dai dai, andiamo avanti. Carina, è carina. Adesso l'altra mitica dietro. No, non c'è l'altra mitica. Oh, che roba hai già trovato un The Great Engine. Il Belfare Dragon poteva anche essere così dai. No, Belfare Dragon sinceramente mi piace di più il Belfare Dragon. Come ti piace di più? Ce l'ho anche firmata, The Great Engine. Ma non l'ho mai usata. Ma poverino. Eh, non la voglio usare sinceramente. Come non la voglio usare? Sai che preferisco usare cose un po' più normali. Cosa c'è? No, no. Questo mi piace. Tipo il passaggio dei farabuti. Quello non manca mai. Quello non manca mai. In tutti i mazzi cerco di buttarcelo dentro. Yazzle? Col Mane? Sì. Attacco improvviso. Tappi 5. Le creature attaccanti che controlli. Per non più X più X finisce il turno. Dove X è il numero di creature attaccanti. Un boss di un mazzo pedine. Mystic Confluence. Mica male. Sì. Minds Aglow. Partire da te. Ogni giocatore può pagare con qualsiasi montare di mana. Non montare di mana. Ogni giocatore pesca i scarte dove X è il mano totale pagato in questo modo. Eh, è. È interessante. Ok. Se hai tanto mana, mi devi il modo. Tezuko? Questo qui è forte. Tezuko Mezzawa si è forte. Eh, insomma, è carino in un mazzo con Caghini. Siamo senza parole, ragazzi. Eh, vabbè. Toll il tuo coso, mettilo da parte. Mettilo da parte qua. Attenzione. Oviglia. Rochelle. Godo. Bandit Warlord. Lavora con gli equipaggiamenti. Sì, infatti. Niente di speciale. Medaglione Zafiro. Questo ci sta. Molto apprezzato. Molto gustoso. E niente. Qui due rare. Due rare di cui un medaglione. Quindi schifo non fa. Sì. Questo ci sta. Dopo ci sarà da potenziare tutti i mazzi con i medaglioni. Generous Gift. Gift. Bellissimo. Ok. Outers. Ok. Aenni. Chinese Demetria Master. Costa 5,33. All Nightmare. Tutti di Nightmare. Premi più o più. Tappa tre neri. Paga tre vite. Metti una creatura dal cimitero sul campo di battaglia sotto controllo. Quella creatura è nera e aggiunta. È nera. È nera. Nera e aggiunta su altri tipi. Quando questa qui esce come la taglia esiglia tutti i Nightmare. Ok. Pericolosa. No. Abbastanza. Un Dainted. Questo è uno in meno per ogni avversario. Avversario. Distrugito due creature. Versaglio. Versaglio. Ok. Ci sta. Ok. Niente. Bustine un po' fiatte queste. Eh beh. Non possono di certo essere tutte overpower. No beh. Questo è vero. Questo è vero. Però. Oh che bello questo. Quando spusta che robe. Non ci sarebbe da stupirsi. Sol Ring. Ma che figo questo Sol Ring. Eh. Sarà quello Full Art. Pianura. Foil. Fenwar Stone. Dark Steel. Lingotti. Ok. Questa è la busta di ratefatti. Sol Ring. Si. Si ho visto. Si ho visto. Eh. Balan. 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 Ci sta. Sempre. Equipaggiamenti. Se ha due più equipaggiamenti. Se ha due più equipaggiamenti. Se ha due più equipaggiamenti. Se ha due equipaggiamenti che ci sono. A lei. Pompai. Pompai. Se vinci. Distruggi tutti i permanenti. Non terra. Ok. Qui come detto. Kenva. 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 Si sapeva. E' una terra. Cos'è? Decima questa. Sembra di sì. La X di solito. Entra tappata. Tappa aggiunge bianco. Tappa due. Diventa un soldato. Uno cinque. Fino a finiturno. Con una terra. Ok. Te la metto da parte? Si. Particolare. E' una carta extra. Della lista. Quei della lista li mettiamo da parte. Magili era guerrieri giusto? Non soldati. Boh. Detriturno. Bello. Ok. Quella che aggiunge. Facere due terre. Che condividono un tipo. Un tipo. Toad Vessel. Ci sta. Allora. Odrig. Master Tatis. Questo non è male. Non è assolutamente male. Quando lui e altre. Almeno altre tre creature attaccano. Scegli come le creature bloccano in questa combat. No. Scegli quali creature bloccano e come bloccano. Mica male. Demonic Tutor. Tutor demoniaco. Si dai. Si. Carino. 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 Si fomentano i commenti. Esatto. Tutor demoniaco è forte. Detpr surf. The Great Angel. Tutor demoniaco. Carino. Carino. Ragazzi il segreto è schifare le carte. Capito? Esatto. Come fa che robe. Quindi vengono fuori. Elfo Mistico. Heroes Blade. Ok. Rap Cap into. The Fairy. Quindi ho già, questo è il quinto che ho che trovo. Te ferone. Si ormai sono stufo di trovarlo questo. E... In quanto un incapac � nouvelle entra il Campion de la Battaglia. il controllo puoi pescare una carta equipaggiamenti controlli hanno equipaggiato al zero vacca forte questo controlli tre o più artefatti fortissimo il kraken ex proof tenente se controlli tu con dante prende più di più due a ogni volta diventa bloccato puoi pescare due carte ok e reduce da monket counter a meno che il suo controllore non paga tre bene carino carino che carino buono teferone si teferone non è neanche più il posto nell'album per teferi lo carai fuori dall'album eh per forza sennò lo venderò in giro guarda il token druido guarda è firmato bellissimo ci sta command tower che male non fa eh no facciamo scorta qua per i nostri piani futuri teisa carlob costa 4 2 4 se una creatura che stiamo che muore causa il trigger di un abilità di un permesso dei controlli quelle del trigger si attivano in più il creatore nei controlli hanno cautela e legame vitale non male non male una prima terra bondland si sta e basta ci sta ci sta però adesso siamo in linea con una buona sbustata per ora si considerando la quantità di buste aperte diciamo che quelle buone stanno compensando quelle pessime si questo lo cercava apposta per modificare il mazzo dei tramutanti e tramutanti eh si o degli alfasi e si degli alfasi non è tramutante non so perché mi viene in mente tramutanti quando penso gli alfasi non so perché quando la lanci esiglia due permanenti indistruttibile quando attacca il giocatore nei fasi le prime venti carte del grimorio indistruttibile fantastico bene che robe che robe non le compra le singole che roba le sbuste esatto un'altra mitica che ben trovato anche nell'altro box onesto ci sta e cartella lista cartella di capenna abbastanza scarsa mettila da parte di Ulamog però ci stava si si Ulamog ci voleva anzi non l'avevi ancora aperto cosa manca di bello da prezzi ormai è aperto tutto non mi ricordo manca un lotto gioiello non full art esatto potrebbe uscire se il vala se il vala non ce l'avevi no ogni volta un'altra creatura entra in battaglia il suo controllo può pescare una carta se la sua forza è la maggiore delle altre creature sul campo tappa verde a tappa raggiungi x mana in qualsiasi convenzione di color dove x è la forza maggiore tra le creature che controlli ok carina questo è un buon comandante per un mazzo monoveo di ramp cattivissimo fiery confluence scegli tre poi scegli la prima volta un danno ogni creatura due danni in giocatori suggerire un artefatto vabbè nesli drago terraferma crea un uovo di drago quando muore crea un token drago 2 2 che si potenzia come il drago di shiva ok jet medallion quello nero buono buono insomma bella la sbustata anche questa direi di sì bella quest'arte credo che fa due tre buste un po e poi dopo sale sale la stamina si ricarica laura con le sbustate trezzo è un avversario tappa un artefatto per aggiungere mano per noi controlli quale è fatta fino al prossimo turno questa è la la fine del tuo prossimo turno prossimo l'arte questa carina è molto bella si 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 tappo due metti un più uno più uno sui lei c'è la terza volta che si avvitasse soli in questo turno rimuovi tutti più uno più uno da questa qua e infilita tanto danno a ogni creatura e ogni giocatore beh insomma se è tanto mana spara tanti danni e no perché quando arriva a tre si toglie ah ok hai ragione beh se è tanto mano lo fai più volte beh un draft of god questa è buona draftina tattica meccatitano torrenziale questo è forte flash eh sì quando entri nel campo di battaglia puoi castare un instant dal tuo cimitero senza pagare su questo di mana se questa magia sta presa messa nel cimitero invece esiglia bella bello meccatitano ok ho trovato anche il meccatitano torrenziale eh insomma c'è e poi e questo ha il meccatitano torrenziale il solito elfo counterspell la mamacida la mamacida che non fa schifo linfut questo invece fa schifo tooth and nail si stufi di leggerlo nooo si infatti basta earthless idesu senza cuore si per medaglion quello bianco ne avevo solo uno mi sa meglio adesso adesso insomma sbustando si si fa la svelta a rimpolpare le proprie scorte eh già urza reliquary tower ash barrens theramorphic expense questo fortissimo gelf tappa due tappa quello che fa gli zombie si si esperimenti card esiglia fino a due carte creatura in questo modo crea xx un xx blue zombie token dove x è una forza totale delle due creature ma si complicato regal bimut questo è quello che hanno trasformato in dinosauro ok diventi monarca una volta tappi terra per adingere mana se sei monarca attingi mana addizionale esatto non male wake the dead quella che quando si può utilizzare solo durante la combat solo nel turno degli avversari fai tornare x creature dal cimitero e le sacrifiche al prossimo end step tanta roba un bel bayard foil che anche questo ci sta si si carino si trova anche questo l'utilizzo in tanti mazzi si che bayard è carino allora ragazzi adesso esce la mitica cos'è già tre buste che non esce si si adesso c'era un po' di calma adesso si si questa è la vratta dei non incantesimi dei non incantesimi creature non incantesimi con almost rich full art attenzione ecco la mitica scarabod lo sapevo lo sapevo so come funziona l'algoritmo qua l'algoritmo che roba ormai non ha più segreti all'inizio del tuo mantenimento universale per x vitae e tu profetizzi x dove x numero di zombie che controlli tappa 4 esiglia una creatura da cimitero crea un token che è una copia di quella creatura nelle sezioni che è uno zombie nero 4-4 quando muore fai tornare in mano il suo proprietario inizia la prossima strada finale e anche lo scarab god hai trovato pensa a te reduce confluence scegli 3 poi scegli lo stesso più di una volta crea 2 no crea un cavaliere 2-2 con cautela esiglia un incantesimo fai 5 vite ok living weapon qui prende più 1-1 oltre la cazzo pagiata infine un giocatore quel giocatore perde metà dei suoi punti vita ero tornati per eccesso costa 5 pagiata 3 questa qui la tua popper master popper master ok ok un altro grenzo certo personal tutor cerca il gamero per una stregoneria rivela aggiungere la mano no rivela mescola e vincere in cima comunque è molto utile lento però costo 1 fire guardianship arriva anche lei dal nulla il segretario comandante puoi lanciarla senza pagare il costo counter a una magia non creatura ecco questa la mettiamo nelle mitiche perché costa più delle mitiche eh praticamente sì cioè quella lì è una super carta che va in tutti i mazzi eh eh ho dovuto passarla ho dovuto passarla al tratto ho fatto una brutta scelta dovevo scappare via dovevo abbandonare tutti e fare e mo me ne vado eh già con la mazzi richi te tu co isan the wonderer bard tappa 3 tappa metti un verse counter su isan sempre il numero per una creatura con mana uguale numero di verse counter mettere la sua metà e poi rimescola onesto ok sublim exhalation distrutto le creature costa 1 in meno per l'avversario un brattazza anche questa tattica utile sì le bratte sono sempre utili una bella scorta di carte utili utilizzabili utili e utilizzabili è un commander master ci mancherebbe altro una carta firmata firmata bene palude plurida terra foil che bella chi è di un tipo di creature ci sono tutte le creature che non sono del tipo scelto perfetto full art bellissima amica dei tramutanti azami lady of scrolls costa 5 di cui 3 blu tappa un stregone stappato un mago mago stappato di controllo e pesca una carta ok se vines reclamation costa 3 fa trovare un permanente bersaglio con mano valore di mano a 3 o inferiore dal tuo cimitero sul campo di battaglia se questa magia sta lanciata dal cimitero puoi copiare questa magia e scegli a noi i bersagli per la copia potente un flashback a 5 eh mica male e il champions helm foil che in questo fuori più peggiare più 2 più 2 fin con la copia peggiata è leggendaria e anti malocchi che peggiare a 1 mica male e dalla fornace fornace dei ratti e no rat ratto no ratta 6 dovrebbe essere boh raddoppia tutto il danno segnato da una qualsiasi giocatura to any creature or player raddoppia il danno fatto a creature o giocatori mica male onesta onesta costa 4 incantesimo però peccato che lo fa anche su di te giustamente lei le robe implode con esatto con un sternuto soppresso sternuto allora Faganiersi la consideriamo come mitica o esce in questa busta la mitica ma quante quante terre e ci sono le buste terra attenzione goal con le alisa niente eh niente è lì che non ce la fa più esatto sta esplodendo terra bondland sprona tutte le creature che non controlli ok e tanto quella foil lì è anche carina perché ti rampa gli eldrazi si è vero cioè può rompere anche altre cose ma va bene anche per gli eldrazi solo che è verde non posso metterla nel mazzo bella montagna foil generoslif ok 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 zetalpa ecco non hai trovato un crater of bimut ancora eh vabbè è un'altra carta del bimut degli zoccoli craterici è un'altra carta che potrebbe uscire 4-8 4-8 volare doppio attacco cauteo travolgere indistruttibile tutto è forte tutto imps mi chef costa 2 cambio il bersaglio di una magia bersaglio con un singolo bersaglio per dirite pari al costo di mano di quella magia come se la rilanciassi la nuve e la giri contro song of dryads incanta permanente diventa una foresta in colore giusto extinguisione all hope e questa è una rara costa 6 la criatura che ho baggiata prende più 6 più 6 e equipaggiare a 6 ogni volta la criatura che ho baggiata attacca diventa oggi una permanente bersaglio forte si iniziamo nelle carte quelle della lista pensavo che fosse rara si è rara ma la mettiamo nella lista ok ok qui un'altra delle tue cose si si pieno ulemux crusher questo fa proprio razzi pessimo frialis toy prince walker è già trovata comunque days undoing costa 3 ogni giocatore rimesco la prima mano il proprio cimitero nel proprio grimorio poi pesca 7 carte salto turno finisce il turno ero mistico full arfo è bellissimo e sword of vengeance costa 3 il capitolo equipaggiata prende più di più 0 e attacca improvviso il cautela travolgere e rapidità equipaggiare a 3 ok un'altra rara dalla lista ultime 3 buste ultime 3 buste intervento eroico intervento eroico quello si è speciale compensa così si questo qui fa gli x elementali se gli altri lo fanno ne fai ancora e la minotouse auguri cinque rare qua cinque rare con una bella foil perché reality shift foil ci sta ci sta interventino eroico bella busta e almeno facciamo scorta anche di intervento eroico ah sicuro ne ho già due qui c'è un kemba un buon vecchio kemba quando vedi il giallo sai che è kemba daretti non l'avevo ancora trovato non l'avevo ancora trovato però ce l'ho già chiaro quello vecchio un altro un altro si queen marchesa foil bella questa queen marchesa è carina classico comandante per un mazzo mardu ignorante cattivo che picchia sulle croste monarca token monarca quella queen marchesa ci stava ok l'ultima busta allora siamo a un due tre quattro cinque sei sette mitiche di cui demonic turtle great hands e ulamog più lo scarab god che male e schifo non fa eh già che roba riuscirà a non credo a migliorare ulteriormente questo box non credo attenzione endrexar no così lo sta peggiorando il box si blow chief ascension eh niente è finita così niente box finito è finito così ma non è andata male non è andata male non è stato inferiore al box precedente no non è andata neanche si è andata abbastanza bene dai perché comunque se ci fai due conti non è che sono cioè sicuramente non ci va in pari come l'abbiamo già visto parecchie volte ah già nonostante tu abbia sbustato bene perché c'è chi non sbusta così perché hai sbustato belle carte ma è non abbastanza non abbastanza d'altronde è difficile difficile pareggiare i conti con vabbè quello si per forza questi box comunque dai tutto sommato è un bel bottino eh già c'è da esserne fieri con questi bottini perché robe esatto ora concludiamo qua la serie di unboxing di commander master ci vediamo i prossimi giorni con le solite sfide tra i mazzi commander esatto direi che l'antimedia è tutto al prossimo video